Sto avendo notizia di tanto interesse da parte del mondo fuori da qui, che ci vengono a dire Presidente, non abbattete JJ4, perché abbiamo trovato un posto qua, abbiamo trovato un posto là. State sereni, ne abbiamo 70 da spostare. Portateci nomi di dove li volete, abbattiamo questi tre qua, poi ne abbiamo altri 70 da portarvi a tutti questi che fanno filosofia, che fanno cultura sulla gestione degli orsi. State tranquilli che offerta di orsi per i vostri territori disponibili ce n'è in abbondanza. Abbattuti questi ce n'è per il resto. Fatevi pure avanti, dico a coloro che ci chiedono di non abbattere JJ4.